ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario gimpette informazioni commerciali titolare gimborn italia srl concessionario gimborn italia srl confezioni gimpette pasta al formaggio e biotina 220 g formulazione ingredienti sottoprodotti vegetali olie grassi lievito latte prodotti caseari formaggio 4 per cento sostanze aggiunte biotina vitamina h 40 mila mcg barra chilogrammi l carnitina 2000 mg barra chilogrammi taurina 2000 mg barra chilogrammi con coloranti componenti analitici ceneri gregge 5 7 per cento grassi gregge 37 6 per cento umidità 13 7 per cento fibre gregge 0 7 per cento proteine gregge 8 3 per cento indicazioni una sana prelibatezza questa pasta molto aromatica e al sapore di formaggio piacerà molto a tutti i gatti la biotina contenuta nel prodotto aiuta il pelo a mantenersi lucido morbido e con il colore intenso posologia consigli di somministrazione alimento complementare somministrare a gatti adulti una o due volte a giorno 5 cm 2 4 g di pasta per i gattini invece è possibile raddoppiare le quantità indicate conservare a temperatura ambiente fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato